Come va qua? Tutto ok? Bene, alla grande. E vai, Pavia, vai. Leggerino per me, esatto, un bel spritone. Guardate che baristiche abbiamo. Che meraviglia. Siamo in diretta al ristorante sul bacino di Massa Lombarda, ore 17.30. Single in tour forever, yes. Un cin cin. Cin cin ai single in tour, ecco qua. Perfetto, vai. Cin cin. Bene, bene, bene. E vai, ma siamo avanti qua, eh? Siete molto avanti, eh? Sì, eh? E vai, viva, viva lo sprit. Ragazzi, lo sprit fa i miracoli. Ma adesso il nostro barista, eccolo qua, vai. Oh yes, vai. Andiamo alla grande. Vai, ecco qua. Oh yes. Si va, va. Questa è la piscina del ristorante sul bacino, ragazzi. Single in tour forever, yes. Eccolo qua, eccolo qua, vai. Eeeh. 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 Cin cin, vai, viva i single. Single in tour forever, yes. Così si fa. Alla grande. Eeeh. 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 Eeeh.